Oggi in Animal Pedia esploreremo alcune curiosità sui gatti neri. Sapevi che questi felini hanno caratteristiche uniche e sorprendenti? Vediamole! Storia e superstizioni I gatti neri sono stati circondati da superstizioni e miti nel corso degli anni. Nell'Europa medievale si credeva che i gatti neri fossero associati alla stregoneria e al diavolo, portando alla persecuzione e all'uccisione di questi felini durante l'era delle caccia alla streghe. Tuttavia in altre culture come quella egiziana e quella giapponese, i gatti neri sono considerati simboli di buona fortuna e prosperità. Scopri altri falsi miti nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Melanismo e diversità genetica Colorazione nera nei gatti è il risultato del melanismo. Una condizione genetica che causa un'eccessiva pigmentazione scura della pelle e del pelo. Tuttavia il colore nero può variare in intensità e tonalità. I gatti neri possono avere sfumature come il blu, il cioccolato o addirittura riflessi dorati a seconda della luce. Varietà di razze I gatti neri non appartengono ad una razza specifica. Possono essere trovati in un'ampia varietà di razze. Alcune delle razze più conosciute che possono presentare gatti neri includono il gatto Bombay, il gatto Pantera, il gatto orientale e molti altri. Possono mimetizzarsi. La colorazione nera dei gatti fornisce loro un mimetismo naturale al buio che li aiuta a cacciare le prede di notte in modo più efficace. Questa capacità mimetica permette loro di passare inosservati negli ambienti urbani e rurali, contribuendo alla sopravvivenza in natura. Personalità e temperamento unici Sebbene il colore del mantello non determini la personalità di un gatto, alcuni proprietari di gatti neri hanno osservato in essi alcune caratteristiche comuni. Molti descrivono i gatti neri come affettuosi, intelligenti e giocosi, con una grande capacità di formare stretti legami con i loro compagni umani. Sono presenti nella cultura pop. I gatti neri sono stati importanti nella cultura popolare nel corso degli anni. Dal famoso gatto Salem nella serie televisiva Sabrina vita da strega, agì il gatto e nichi l'apprendista strega dello studio Ghibli, alla rappresentazione dei gatti neri in film, libri, opere d'arte. Questi felini hanno lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo. Hanno meno probabilità di essere adottati A causa delle superstizioni e degli stigmi associati ai gatti neri, spesso affrontano tassi di adozione inferiori rispetto ad altri colori. Ciò ha portato alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione dell'adozione dei gatti neri, evidenziandone le qualità positive e incoraggiando un atteggiamento più comprensivo nei loro confronti. In breve, i gatti neri sono creature affascinanti con una ricca storia, una notevole diversità genetica e una presenza di rilievo nella cultura umana. Nonostante le superstizioni e gli stigmi che possono circondarli, questi felini meritano di essere apprezzati per la loro bellezza, personalità e fascino unici. Se vuoi continuare a conoscere altri fatti interessanti sui gatti, non perderti la playlist qui accanto. Raccontaci quale di queste curiosità sui gatti neri ti ha sorpreso di più. Alla prossima volta, esperti!